Quando sono uscita, Eder era a letto, come sempre. E quando sono tornata... Merda. Se l'avessi saputo, io... Non è colpa tua. Non potevi fare niente. Dovevo capire che c'era qualcosa che non andava. Basta. Non potevi sorvegliarla di continuo. Se voleva farlo, avrebbe trovato un modo. Comunque. Bisogna fare qualcosa. Non voglio problemi. Chiamo gli Sbirri. Puoi metterla sul letto? Come se questo cambiasse qualcosa.